Comparirà domani di fronte alla corte d'assise di Arezzo, Javar di Sham, il 38enne magrebino, che lo scorso aprile uccise a coltellate la compagna e la suocera, Sara Ruschi di 35 anni e Brunetta Ridolfi di 76 nell'appartamento di via Benedetto Varchi. Un omicidio consumato di fronte ai due figli della coppia, una bimba di 2 anni e un ragazzo di 16. Duplice omicidio aggravato dalla convivenza stabile e l'accusa di cui dovrà rispondere. L'uomo in considerazione della gravità del reato di cui è accusato non potrà ricorrere a riti alternativi né abbreviati, potrebbe quindi essere condannato al massimo della pena. Javar di Sham, attualmente detenuto nel carcere di Prato, potrebbe chiedere una perizia psichiatrica per valutare la piena capacità di intendere volere al momento del fatto. I figli della coppia e i familiari delle vittime si costituiranno parte civile. Il 16enne era già stato ascoltato in incidente probatorio, un modo per proteggerlo lontano dall'aula e dal tribunale, ma anche per fissare la ricostruzione dell'unico vero testimone. Tra le parti civili chiederà di essere inserita anche un'associazione che si batte a favore delle donne contro ogni violenza, l'associazione Senza Veri sulla Lingua.